E' stato un orgoglio per la nostra chiesa custodire Don Nicola Tiscornia, così il vescovo al funerale del decano dei sacerdoti della diocesi, il ricordo affettuoso di Monsignor Corrado Sanguinetti. Treni, altra mattinata di ritardi, guasto sulla linea alla Spezia Genova e Intercity rotto tra Genova e Milano scatenano la rabbia dei pendolari, la regione scrive a Trenitalia saranno combinate delle sanzioni. Il depuratore di Santa Margherita Ligure è tornato operativo al 100%, colpito dalla mareggiata l'impianto era attivo in pretrattamento per non inquinare, ora il riavvio completo delle funzioni interne. E' in corso a Rimini il quarantesimo meeting per l'amicizia fra i popoli, stamani la relazione del presidente della CEI. E' triste quel paese che non sa dare speranza ai propri figli, ha detto il Cardinal Bassetti. Il Papa all'Angelus ha sottolineato che occorre non vivere in maniera ipocrita, ma essere cristiani nelle situazioni concrete, testimoniando il Vangelo che è essenzialmente amore per Dio. Vecchie glorie del Sestri Levante Calcio in campo al Sivori per festeggiare i 100 anni della società, gli obiettivi, puntare sui giovani e consolidare la squadra per il prossimo campionato. Buonasera a tutti, bentornati al nostro telegiornale. Questa mattina in Cattedrale a Chiavari i funerali di Monsignor Nicola Tiscornia, decano dei sacerdoti della Diocesi di Chiavari, morto la notte tra venerdì e sabato all'età di 104 anni. Il Vescovo ha descritto gli ultimi anni della vita del sacerdote, invitando tutti ad affidarsi, come lui ha fatto, alla fraternità sacerdotale e alla maternità della Chiesa nei momenti di difficoltà. Sentiamo Emanuela Castello. È stato un orgoglio per il Presbiterio di Chiavari custodire Don Nicola Tiscornia. È stato un orgoglio poter fare affidamento sulla sua estrema lucidità. Lo ha sottolineato il Vescovo di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini, questa mattina nella Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, presiedendo la Santa Messa funebre per Don Nicola, il decano dei sacerdoti della Diocesi. Nella sua omelia Monsignor Tanasini ha voluto svelare un particolare non secondario degli ultimi anni di vita di Don Tiscornia e lo ha fatto non solo perché lui stesso non ne faceva mistero con gli altri, ma anche e soprattutto come spunto di riflessione per tutti e per i giovani preti in particolare. Don Nicola ha vissuto diversi momenti di fatica negli ultimi anni della sua esistenza. Era angustiato, ha sottolineato il Vescovo. Aveva molte preoccupazioni e rimorsi. Due sono state le strade attraverso le quali ha ritrovato la serenità e la pace e in definitiva ha ritrovato se stesso, la fraternità sacerdotale e la maternità della Chiesa attraverso il suo Vescovo. La fraternità cura, pacifica, aiuta a ritrovare se stessi e a tutti dico la fraternità, l'aiuto reciproco, l'attenzione, la cura, tutto questo è per tutti noi davvero una profonda medicina dell'anima. Monsignor Tanasini ha posto l'accento sull'importanza dell'affidarsi alla misericordia di Dio attraverso la Chiesa per la vita sacerdotale e per l'esistenza di ciascuno. Quante volte abbiamo motivo di contrasto, di giudizio e poi che cosa ci resta se non la misericordia del Padre attraverso la misericordia della Chiesa? E allora ecco, questa comunità, espressione della Chiesa, accompagna il suo Pastore, lo accompagna incontro al Padre, l'accompagna nella gioia, nella gioia profonda del cuore, nella riconoscenza e nell'offerta a lui, al Padre, di una vita così vissuta, totalmente dedicata a lui. All'inizio della celebrazione la figura di Monsignor Tiscorni è stata descritta da Monsignor Corrado Sanguinetti, vescovo di Pavia, che fu curato nella parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Rì a Chiavari negli ultimi anni in cui Don Nicola fu parroco. Il suo è stato un ricordo affettuoso. Gli abbiamo chiesto quali sono stati i tratti essenziali del ministero di Monsignor Tiscorni. Io Don Nicola chiaramente l'ho conosciuto alla fine della sua vita di parroco perché sono stato il suo ultimo curato a San Giuseppe dei Piani di Rì e in quei tre anni che l'ho visto in atto come parroco mi ha sempre molto colpito la sua disponibilità, disponibilità all'incontro con le persone, la passione con cui dedicava il ministero alla parola, quindi la sua predicazione è sempre così viva, così intensa, per cui anche negli anni successivi quando si è ritirato da parroco finché ha potuto, predicava e predicava come dire leggendo tanto, si vedeva che era un uomo che aveva ancora tanti interessi e non voleva come dire ripetere cose già dette da un certo punto di vista, ma voleva riappropriarsi continuamente della bellezza, del mistero e della fede. E poi devo dire anche così come tratto, era un uomo di preghiera ma di preghiera come dire discreta, nel senso che aveva questo tratto anche di riservatezza, appunto normalmente anche da curato non pregavo con lui, però era assolutamente disponibile all'incontro, al dialogo, a raccontare anche tante cose della sua lunga vita. E poi aveva questo tratto per coltivare le amicizie, lui ha avuto tanti amici, magari fedeli che sono stati i suoi bambini, i suoi gherichetti, poi cresciuti, che non tanto lo veniva a ritrovare, il legame anche con la sua terra, è nato a Buenos Aires ma poi è cresciuto a Santa Maria di Nè, quindi era molto legato anche alla sua parrocchia, andava sempre per la festa della Madonna a settembre. Ecco, poi mi sembrava un uomo contento, contento di essere prete, senza, direi, senza troppi problemi, anche senza troppe artificiosità, cioè ad esempio lui non amava molto troppe organizzazioni, preferiva che in qualche modo ci si facesse un po' condurre anche da quello che la realtà man mano chiedeva, ecco quindi direi davvero un cuore, sì, di pastore, di padre, lo è stato per tanti, lo è stato appunto anche per me, ma penso anche per altri preti che sono stati a contatto con lui, per cui davvero, penso proprio un grande dono che il Signore ha fatto alla nostra diocesi. A Monsignor Tiscornia, nell'anno del suo centesimo compleanno, la Filarmonica di Chiavari aveva tributato al sacerdote un omaggio musicale. Riproporremo il concerto, registrato in quell'occasione questa sera alle 21.30 su Telepace 4, che è il canale 218. Veniamo ora alla cronaca, mattinata di disagi per i pendolari sulle tratte Livorno-Milano-Centrale e la Spezia Genova. Il caso più grave è quello di un Intercity al quale per ben due volte si è rotto il locomotore scatenando l'ira dei viaggiatori. Nuove polemiche dunque dopo la cancellazione di 23 convogli venerdì 16 agosto. Oggi interviene la Regione, pronti a rescindere il contratto se la situazione dovesse ripetersi, ha scritto l'assessore Berrino. Sentiamo. Che fatica a viaggiare in treno in Liguria. È in sintesi il pensiero del governatore Toti dopo i disagi degli ultimi giorni, oggi compreso. Sulla linea alla Spezia Genova stamani, a causa di un guasto ad uno scambio, diversi convogli, soprattutto regionali, hanno riportato ritardi. Ben più grave però quanto accaduto all'Intercity 35662, partito in orario da Livorno alle 6.25, al quale si è rotto il locomotore subito dopo Genova. A Ponte Decimo il treno è rimasto fermo per un'ora. Ripartito, ha avuto nuovi problemi al locomotore appena sostituito, suscitando l'ira dei viaggiatori. Il capotreno è stato anche picchiato da un passeggero, episodio che ha richiamato sul posto Polfer e 118. L'odissea dell'Intercity si è conclusa alla stazione di Milano Centrale alle 14.51, quattro ore di ritardo rispetto all'orario d'arrivo previsto, le 10.55. Trenitalia ancora una volta travolta dalle polemiche. Pochi giorni fa, il 16 agosto, erano stati cancellati 23 convogli a causa, secondo quanto dichiarato dall'azienda, di malattie e congedi del personale. Oggi interviene l'assessore regionale ai trasporti, Gianni Berrino. Siamo pronti a rescindere il contratto se la situazione dovesse ripetersi, scrive in una lettera inviata a Trenitalia. Ogni treno in meno, prosegue, verrà conteggiato e saranno combinate sanzioni valutate sulla base di quanto previsto dal contratto di servizio e che saranno applicate entro la fine dell'anno. Tutto questo non sarà certo sufficiente perché il danno, soprattutto d'immagine, è stato grave. Ma siamo pronti a prendere in considerazione, conclude Berrino, anche misure estreme. Gli fa eco il presidente Toti. Chiediamo a Trenitalia di anticipare la consegna dei convogli, scrive sui social, e che tutti gli intercity vengano sostituiti perché quello che è accaduto è inaccettabile. E se il PD poche ore prima chiedeva alla regione di far sentire la propria voce a sostegno dei cittadini, il Movimento 5 Stelle si dice soddisfatto della presa di posizione di Berrino e aggiunge è necessario che Trenitalia investa subito in nuove assunzioni di personale per scongiurare altri disservizi e cancellazioni di treni. Oggi ai Giardini Amare l'amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure ha consegnato la Bandiera Lilla 2019 all'associazione Paratetraplegici Onlus. La Bandiera Lilla è il riconoscimento assegnato ogni anno a chi si impegna a favorire il turismo da parte di persone con disabilità, premiando e supportando quei comuni che prestano una particolare attenzione a questo target turistico. E intanto buone notizie per il comune di Santa Margherita Ligure sono arrivate proprio in queste ore da Ireti. Il depuratore di punta pedale è tornato infatti funzionante al 100%. I dettagli nel servizio. Anche il terzo dei gravi problemi cagionati dalla mareggiata d'ottobre al comune di Santa Margherita Ligure è stato risolto. 9, 14 e 17 agosto. Tre date per tre soluzioni. Nemmeno dieci giorni e Santa Margherita Ligure ritrova la sua normalità. Il primo passaggio riguarda l'approvazione del primo lotto del progetto definitivo di messa in sicurezza del porto, un documento passato prima in conferenza dei servizi, poi in giunta, nei primi giorni di agosto. La vigilia di ferragosto, poi, l'apertura a doppio senso di marcia della provinciale 227 per Portofino, arrivata con alcuni mesi di ritardo, ma che segna una svolta fondamentale per i trasporti, anche se a fine mese il semaforo tornerà temporaneamente per consentire i lavori di finitura della strada. Ora, Ireti ha comunicato che anche il depuratore è tornato funzionante al 100%. Dopo i lavori durante l'inverno, nei mesi di maggio e giugno 2019, sono stati eseguiti i test propedeutici per il riavvio dell'impianto di punta pedale. Nella prima metà di luglio è stato avviato il comparto biologico, con la progressiva partenza di due delle quattro linee di membrane, attività che ha permesso di iniziare la fase a pieno ciclo a partire dal 15 luglio. Dopodiché sono proseguiti gli interventi per poter attivare tutte e quattro le linee di membrane e per la messa a regime di tutti i comparti del depuratore, lavori che si sono conclusi pochi giorni fa. Un risultato che, per il sindaco, è stato ottenuto grazie al lavoro di squadra degli enti coinvolti, in primis comuni, regione e città metropolitana. Vedo a dire che il depuratore ha sempre funzionato regolarmente in pretrattamento e questo ha consentito di non inquinare l'acqua nel nostro mare, tant'è vero che anche nel 2019 Santa Margherita Ligura ha conquistato la bandiera blu. Ma adesso è stata ripristinata la totale funzionalità dell'impiantistica interna, quindi il depuratore è tornato come prima. Ci tengo a ringraziare il dottor Gnocchi e tutto il suo staff per l'impegno posto in maniera continuativa al fine di ottenere questo risultato. È stato ultimato l'intervento relativo all'esecuzione di un impianto fotovoltaico sulla copertura al lato nord della scuola media Don Gnocchi di Lavagna. L'opera è stata finanziata grazie ad un contributo regionale a fondo perduto per un importo massimo di 19.780 euro, una notizia importante per un comune indissesto. Il campo fotovoltaico è costituito da 98 moduli. Inoltre è stato anche pulito il piazzale sul retro della scuola e messa in sicurezza la scala di emergenza verso piazza della Meridiana. Questa mattina è stata eliminata la scritta con vernice rossa solo piazza del popolo comparsa qualche settimana fa in quella che è oggi piazza caduti di Nassiria. L'intervento spiega il sindaco Marco Di Capua è stato effettuato con un certo ritardo in quanto l'area è privata e soggetta al vincolo della sovrintendenza. Ci rimettiamo al senso civico dei cittadini conclude il primo cittadino che aggiunge dobbiamo rendere onore a tutte le forze dell'ordine nessuno esclusa e a tutti coloro che sono morti svolgendo il proprio lavoro per lo Stato. Cambiamo argomento, ha preso il via a Rimini la quarantesima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli. Questa mattina c'è stata la relazione del cardinal Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, sul tema non fatevi rubare i sogni sono il futuro. Bassetti ha parlato dei giovani e di una generazione ostaggio di una società vecchia e immobile. I dettagli nel servizio. Ho la netta sensazione che il nostro paese non riesca minimamente a valorizzare i talenti, le capacità e le attitudini dei nostri giovani. A dirlo il cardinal Gualtiero Bassetti intervenendo stamani al meeting di Rimini. Va avanti il presidente della CEI, i talenti dei giovani rimangono sepolti nel deserto o forse dovrei dire nella palude della nostra società. In moltissimi casi ci troviamo di fronte a persone che vivono un profondo non senso esistenziale perché non riescono ad intravedere il futuro. Di qui il grido d'allarme di Bassetti, le giovani generazioni rischiano di essere attratte da un materialismo nichilista senza alcuna cura verso l'altro che sta nella sofferenza e senza uno slancio autentico verso il futuro. Il desiderio di successo personale, di farsi Dio di se stessi, di possedere somme ingenti di denaro rappresentano purtroppo i grandi miti della nostra società. Molti giovani condizionati da questa società edonista che spesso banalizza le amicizie e i rapporti umani, conducano una vita ripiegata su se stessi, che non permette di apprezzare fino in fondo il senso del vivere insieme. Ai giovani e alle loro famiglie, conclude Bassetti, oggi dico ragazzi alziamoci, facciamolo insieme, senza paura, con coraggio e gioia pura. Perché, come ripete spesso Papa Francesco, non lasciatevi rubare i sogni. Infine il presidente della CEI ribadisce che oggi la crisi è di sistema e di divisione, prima ancora che di governo, e sui migranti ammonisce, si aiuta chi ha bisogno. Delle volte mi vi hanno detto, ma è più importante aiutar quello, quell'altro, aiutare un italiano, aiutare uno straniero. Io cito sempre la parabola del buon samaritano. Si aiuta chi ha più bisogno di aiuto e ci si china soprattutto chi è caduto, chi è ferito sulla strada, chi è solo. In questi giorni Telepace trasmetterà gli incontri del meeting. Saremo in diretta dalle 11.30 del mattino, su Telepace 2 al canale 85, alle 15 e alle 17 su Telepace 1 al canale 15. Su Telepace 3 invece, che è il canale 115, verranno trasmessi gli incontri registrati e riproposti in diverse fasce orarie della giornata, alle 8, alle 10, alle 15, alle 18.30 e alle 21.35. Si parte questa sera alle 20.50 su Telepace 2, dove proporremo la cerimonia di inaugurazione. E adesso facciamo un passo indietro e parliamo dell'Angelus Domenicale del Papa, che ha sottolineato la necessità di coerenza nella vita cristiana, che non può scendere a compromessi. Occorre, ha spiegato, non vivere in maniera ipocrita, ma essere cristiani nelle situazioni concrete, testimoniando il Vangelo, che è essenzialmente amore per Dio. Il servizio della Radio Vaticana. Il Papa all'Angelus indica un'opzione che non si può rimandare, quella per il Vangelo. Si deve abbandonare, aggiunge il Pontefice, ogni atteggiamento di pigrizia, di apatia, di indifferenza e di chiusura per accogliere il fuoco dell'amore di Dio. Adorazione a Dio e disponibilità al prossimo, sottolinea il Papa, sono essenziali per aderire al fuoco dell'amore di Gesù. La prima, adorare Dio, vuol dire anche imparare la preghiera dell'adorazione che di solito dimentichiamo. La seconda via fondamentale è la disponibilità a servire il prossimo. Per vivere secondo lo Spirito del Vangelo, occorre che di fronte ai sempre nuovi bisogni che si profilano nel mondo, ci siano discepoli di Cristo, che sappiano rispondere con nuove iniziative di carità. Gesù, conclude Francesco, è venuto a portare una divisione salvifica. Egli è venuto a separare col fuoco, separare che? Il bene dal male, il giusto dall'ingiusto. In questo senso è venuto a dividere, a mettere in crisi, ma in modo salutare la vita dei suoi discepoli, spezzando le facce e le illusioni di quanti credono di poter congiugare vita cristiana e mondanità. Vita cristiana e compromessi di ogni genere. Si tratta di non vivere in maniera ipocrita, ma di essere disposti a pagare il prezzo di scelte coerenti. E questo è l'atteggiamento che ognuno di noi dovrebbe cercare nella vita coerenza e pagare il prezzo di essere coerenti col Vangelo. E' mancato a 84 anni Ugo Signorini, esponente di rilievo della DC. In Liguria è stato assessore regionale all'urbanistica dal 1985 al 1990. Fu protagonista del primo piano paesistico d'Italia approvato nel 1986 e che tuttora resta lo strumento di pianificazione territoriale della Liguria. Lottò in anticipo sui temi a difesa dell'ambiente e prestò sempre grande attenzione alla difesa dei posti di lavoro. Oggi il mondo della politica lo ricorda come un amministratore giusto, di valore, capace di difendere i propri ideali. Siamo alla cronaca. Soccorso a persona oggi pomeriggio a Sori, sul posto anche ai vigili del fuoco di Rapallo. Una persona, forse a causa di un colpo di sole, si è sentita male in spiaggia. Sul posto anche il 118 di Genova e la pubblica assistenza di Bogliasco. La persona è stata portata in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova. Uno scontro tra una macchina e uno scooter è avvenuto invece questa mattina a Sestri Levante. Intorno alle 8.30 a Santa Vittoria di Libiola un'auto uscendo da una strada privata non ha dato la precedenza alle due ruote che stava transitando. L'uomo alla guida dello scooter si è fratturato l'anca ed è stato trasportato dall'ambulanza della Croce Rossa di Riva Trigoso in codice giallo all'ospedale di Lavagna. Ed è scivolato mentre passeggiava con i suoi cani nella zona di San Andrea di Rovereto lungo un sentiero che porta al santuario di Montallegro. Un uomo che vive in zona è stato soccorso nella tarda mattinata di ieri dai volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Ligure. L'uomo si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra. Il 118 ha attivato i soccorsi e la squadra del soccorso alpino con il medico ha stabilizzato l'arto e trasferito l'uomo sulla barella portantina per trasportarlo poi lungo il ripido sentiero fino all'ambulanza della Croce Rossa che ha trasportato il ferito all'ospedale di Lavagna. Ora siamo alla pagina degli appuntamenti vediamo così tutti gli eventi in programma per la giornata di domani poi ci ritroviamo con lo sport. Appuntamenti in agenda per martedì 20 agosto. Torna il mercato agricolo in via Salvia Sesti Levante aperto dalle 9 alle 13. Presenti gli operatori locali con i loro prodotti. Sagra del minestrone a cabana di Rezzoaglio per la festa di San Bernardo Abate. Alle 19 aprono gli stand gastronomici. A seguire la serata danzante. Assaggio a cavi la degustazione di piatti e bevande a cura del civ di caviaranelle. Dalle 19 a cavi di lavagna. Festival della politica a Santa Margherita Ligure organizzato dall'associazione culturale Isaia Berlin. Alle 21 in piazza Caprera l'incontro comunicazione politica e fake news con Simone Andrini, Zeffiro Ciufoletti, Carlo Fusi, Corrado Cone ed Edoardo Tabasso. Primo appuntamento della rassegna di teatro Lialetale Elio Rossi. La compagnia I Villesanti porta in scena lo spettacolo O Barber del Seuseglia. Alle 21 in piazza dei pescatori a Chiavari. In piazza Centocrocio a Bonassola dalle 21 gli illustri cugini cantano De Andrè. Continua la rassegna dei martedì nella basilica di Santa Maria di Nazareth a Sesti Levante. Alle 21 e 15 Marco Carminati cura la conversazione su Cena in Emmaus di Caravaggio. Concerto organistico di Matteo Pasqualini nella chiesa parrocchiale il Sant'Antonio Abate ad Eva Marina. L'inizio alle 21 e 15. Arriva a Trigoso andrà in scena lo spettacolo L'Asta del Santo della compagnia teatrale Iomini. Alle 21 e 30 nella piazzetta Clivio Ghio di Sesti Levante. All'interno del Festival Internazionale di Valle Cristi si tratta al concerto A Tribute to Fabrizio di Andrè del pianista Danilo Rea. Alle 21 e 30 a Villa Tiguglio di Rapallo. Alcuni giorni dopo la torta dei fieschi il sindaco di Lavagna ringrazia tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita della serata. Il primo cittadino ricorda i numeri. 20.000 presenze, poco più di 5.000 biglietti venduti con il gioco delle coppie, 450 figuranti al corteo. Gian Alberto Mangiante dice dunque grazie al gruppo storico dei Sestieri, all'Associazione Baia delle Favole e ai bimbi ucraini che hanno dato il via ai festeggiamenti in comune, all'Accademia del Turismo, agli operai del comune che hanno fatto l'impossibile nonostante la situazione di dissesto e anche il numero esiguo di personale. E poi alle forze dell'ordine, ai volontari, alla Croce Rossa e infine alla pasticceria a cavo che quest'anno ha fornito il dolce. E dentro domani è possibile prenotare un posto per la cena di beneficenza organizzata per mercoledì sera al Porticato Brignardello di Lavagna. L'iniziativa è promossa dai commercianti e dagli artigiani del Centro Storico, in collaborazione con amici e volontari. I contributi raccolti durante la serata saranno destinati all'installazione di un defibrillatore di ultima generazione nel Centro Storico, ma anche a favore dell'Associazione Le Pietre Parlanti per il recupero della cartellonistica dei sentieri. L'appuntamento dunque mercoledì sera alle 20.30. Per informazioni e per prenotarsi ci si può rivolgere all'edicola La Presse di Piazza della Libertà o a San Buceti Giornali in via Roma a Lavagna. E ora siamo allo sport e parliamo di calcio, un'iniziativa per i cento anni del Sestri Levante che si è svolta sabato al Campo Sivori. C'eravamo anche noi, vediamo. In campo questa sera la storia del Sestri Levante, un modo per festeggiare i cento anni della società. Sì, sicuramente questo è l'evento più importante perché comunque ho visto che sono già cominciati ad arrivare dei personaggi che hanno fatto veramente la storia di questa società, giocatori forti che legati alla maglia, cosa che è sempre più difficile trovare. Voi siete stati parte di questi cento anni, che cosa portate nel periodo in cui scendavate in campo per i Sestri Levante. Al di là di scendere in campo io ho incalenato e questa è un'altra grande soddisfazione e assieme a Alessandro abbiamo vinto un grande campionato, siamo risaliti dall'eccellenza alla Serie D ed è stata una cavalcata, ce la ricordiamo ancora adesso e quindi è stato un ottimo trionfo. Cosa portiamo è che chi ha il piacere e la gioia e la forza di indossare questa maglia e di tifare per questa società è un grande dono. di aver fatto parte di questa storia qua dei cento anni di Sestri Levante è un motivo d'orgoglio, poi io sono genovese e in conseguenza venire a giocare a Sestri Levante, quando vieni a giocare all'inizio non pensi mai che puoi far parte poi della storia di una cosa e oggi mi rendo conto che ho fatto parte di una storia di una società e questo è un motivo d'orgoglio. Stagione ormai alle porte, un modo di festeggiare guardando poi a quello che sarà proprio l'impegno di questo campionato. Raccogliamo gli ultimi giorni di svago anche per celebrare una ricorrenza prossima sapendo benissimo che da sabato prossimo faremo sul serio. Finita questa serata cominciamo a preparare bene la stagione che comincerà subito con un paio di derby di Coppa Italia che ci devono vedere pronti subito a questa nuova avventura. Ci stiamo impegnando alla morte per far crescere il settore giovanile perché il futuro a questi livelli qui è questo. Ora che abbiamo anche la fortuna di avere il campo nuovo e le nostre energie si sono concentrate su due cose. La principale è quella del settore giovanile, la seconda è quella che stiamo cercando di allestire una squadra che dia delle soddisfazioni. La Lavagnese è stata eliminata dalla Coppa Italia di Serie D. Al turno preliminare disputato al Riboli i bianconeri sono stati sconfitti ai rigori dalla Fezzanese. La gara è terminata sul risultato di 1 a 1. La qualificazione si è così decisa dal dischetto. Gli avversari non sbagliano un tiro mentre risulta fatale per la Lavagnese l'errore dagli 11 metri del portiere Nassano. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Ci ritroviamo domattina puntuali con la nostra rassegna stampa. Per tutti gli altri aggiornamenti continuate a seguirci sul sito teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di essere